Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di pasta corta 1 chilo di pomodori san marzano 1 mozzarella Basilico 3 o 4 spicchi d'aglio Mezzo bicchiere di olio d'oliva Sale e pepe Preparazione Sbollentare i pomodori Togliere buccia e semi Tagliarli a filetti e metterli in una zuppiera Unire la mozzarella tagliata da dini e condire con l'aglio L'olio Abbondante basilico e pepe Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata Versarla nella zuppiera e mescolare Lasciar riposare per un'ora prima di servire Il piatto è pronto Buon appetito!